benvenuti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 19 ottobre benvenuti a tutti cari telespettatori siete su fano tv il canale è il 17 del digitale terrestre allora cominciamo con il santo di oggi oggi un santo che si chiama san paolo della croce san paolo della croce è nato a ovada nel 1694 morì a roma nel 1775 il sole sorto alle 7 27 tramonterà le 18 28 il cielo sarà oggi nuvoloso con lieve diminuzione della temperatura nei valori minimi in aumento invece nei valori massimi per la giornata di domani giovedì il tempo peggiora vedete con cielo poco nuvoloso al mattino ma addensamente nelle zone interne e parzialmente nuvoloso dal pomeriggio con copertura nel settore settentrionale della regione avremo possibilità domani di locali piovaschi a ridosso dei rilievi e non si escludono brevi fenomeni in serata nel settore settentrionale della regione le temperature sono stazionarie a un lieve aumento per venerdì cielo parzialmente nuvoloso piovaschi sparsi o brevi rovesci vedete dalla cartina anche dove ci saranno questi piovaschi o questi rovesci le temperature sono in diminuzione venti librezza leggera o tesa da nord ci sarà un leggero miglioramento soltanto eccolo qua per l'intero fine settimana e la prossima per l'espansione dell'alta pressione africana dunque il tempo migliorerà sabato e domenica poi anche nel resto della prossima settimana allora si parla oggi ancora di sanità con l'ospedale unico che ormai sapete tutti si costruirà si realizzerà nel a forso sei ore così come indicato dall'algoritmo visto che i sindaci a urbino l'altro giorno non si sono messi d'accordo non hanno trovato l'accordo anzi molti sindaci hanno fatto mancare il numero legale si sono alzati sono andati via dall'aula e quindi di fatto sono stati paralizzati un po' tutti quanti i lavori anche se poi non tutti la pensano così e non tutti la vedono in questo modo però andiamo a vedere il giornale cominciamo dal Corriere Adriatico ospedale unico a forso sei ore scontro tra ceriscioli e il sindaco di pesero matteo ricci il governatore insiste sul sito del 2012 così dice l'algoritmo ma il sindaco ricci parla di scelta sbagliata il sito più accessibile dunque sul piano della viabilità per quanto riguarda l'ospedale unico di Marche Nord secondo questa applicazione secondo i calcoli di questo computer elaborato dalla regione è fosso sei ore il sito processibile così come il Corriere Adriatico aveva anticipato da settembre il risultato è stato comunicato ieri dal governatore Luca Ceriscioli avallando la scelta tecnica che lunedì non era stata corretta dai sindaci di area vasta ma è scontro con il sindaco di pesero che dice la scelta è sbagliata per questo risultato da gioco dell'oca è stato determinante l'azione del sindaco di Fano Massimo Seri che pure che pure si era detto contro fosso sei ore tutto questo lo troverete all'interno delle due pagine che il Corriere dedica al piano della sanità come cambia la sanità tutto quello che è sono vedete sono i conteggi fatti minuti tutto quello che prevede questo algoritmo per ogni comune si è calcolato il tempo di percorrenza in minuti rilevato da Google Maps verso ciascuno dei siti quindi quanto ci impiegherebbe uno che parte da ipotesi Fossombrone per arrivare a Fossossiore uno che parte da Pergola l'altro che parte ecco tutti questi minuti questi calcoli sono stati fatti il Corriere ha con centimetri ha fatto anche uno scheda una mappa un grafico ok e quindi potete darevi una regolata insomma a colpo d'occhio di quelli che sono i risultati vedete al primo posto c'è Fossossiore poi muraglia case bruciate chiaruccia al quarto posto secondo questi schemi ok questa è la pagina 2 del Corriere Adriatico poi c'è anche la 3 la vedete la vediamo insieme un attimo soltanto con i titoli ci vedete l'intervento di Massimo Seri l'altro giorno durante il suo intervento nella riunione a Urbino poi il grido dei sindaci servizi con la Brodo senza personale ecco perché abbandonare l'assemblea per tanti è stato un atto di responsabilità c'è anche il racconto per esempio di alcune disavventure capitate ad alcuni cittadini raccontate poi dai sindaci durante questa assemblea come sindaco di Sasso Corvaro Daniele Grossi che ha raccontato di un'odissea l'odissea di una malata di polmonite che ha trovato un pneumologo soltanto a Fano quindi a Sasso Corvaro poi è stata costretta ad arrivare sino alla costa a Fano la pagina principale sempre del Corriere Adriatico centropagina denunciati tre furbetti e le difese rispingono gli addebiti erano professori che godevano dei permessi per la 104 la legge 104 in tanti la conoscono è quella che si occupa dei disabili e di chi li assiste evidentemente questi professori avevano questo permesso per assistere qualche disabile però erano tranquillamente al mare al posto di essere a fianco alle persone malate vacanze tra Cube Puglia e l'ex Grilino Bisogni doveva assistere i familiari invece era ad un comizio bene i lavori siamo sulla pagina di Pesodo del Corriere Adriatico bene i lavori ma si finisca entro Natale partito l'intervento in piazzale Olivieri commercianti del centro chiedono di rispettare i tempi per le altre quattro zone di intervento previste si è deciso di cominciare soltanto dopo le festività nella fotografia il sopralluogo di Matteo Ricci e Belloni al cantiere di Via Pedrotti piazzale Olivieri gli amministratori dicono il cuore della città sarà più bello ed accogliente soprattutto per le festività poi casa in dono per amore di Rossini una donna Osmilde Gabucci che era appassionata del Rossini Opera Festival ha voluto lasciare come ultima volontà questa casa che tra l'altro è un immobile che ha offerto al comune di Pesero è confinante con la dimora natale del compositore Ricci naturalmente ringrazia a nome della città il marito, l'orafo Perlini ha deciso quindi di eseguire le ultime volontà della moglie andiamo sull'altra pagina quella di Fano l'apriamo subito ce l'abbiamo qui la seconda pagina in realtà eccola qua la Caritas pensa anche alla salute aperto il centro di orientamento una risposta per quanti incontrano difficoltà ad accedere ai servizi sanitari la fotografia si riferisce ad un momento dell'inaugurazione di questo centro che è avvenuto ieri mattina si chiama Centro Salute Caritas con a destra vedete il sindaco di Fano Armando Trasarti il Vescovo dice sono necessarie opere caritative che tocchino il tempo e il portafoglio strade al buio al mattino qualcuno se ne sarà accorto qualche messaggio è arrivato anche a noi per dire che si spengono troppo presto evidentemente ancora devono essere tarate per il cambio di stagione comunque l'associazione Forbici chiede di tenere accesi i lampioni mezz'ora in più quando soprattutto quando il sole non c'è acquisti facili agguati sul web così lievitano i costi del telefono basta cliccare su un link o attivare un'applicazione per vedersi svuotare il conto le trappole all'insaputa del gestore di telefonia quella di telefonia mobile che riceve richieste dagli utenti ma esiste anche una blacklist basta metterci il nome dell'applicazione e il problema è risolto il problema dell'alcolismo invece apre il Fano Film Festival proiettato il lungometraggio di Luca Spavetto oggi la mostra Marcello e Federico poi sempre dal Corriere Adriatico Valle del Cesano esplosione in mezzo ai campi brillato il proiettile di mortaio a Mondolfo delicata operazione gestita in sicurezza dagli artificieri dell'esercito questo è un fermo immagine del momento esatto in cui è stata fatta brillare questo proiettile questo ordigno fu probabilmente sparato dai tedeschi contro gli alleati nel periodo del 1943-1944 la Croce Rossa italiana alle finali di primo soccorso invece da Marotte il gruppo del presidente Seri ha vinto Urbino le qualificazioni regionali andiamo sull'altra pagina della Valle del Cesano sempre dal Corriere fare sport in tutta sicurezza siamo a San Lorenzo in campo defibrillatori in ogni impianto obiettivo raggiunto da San Lorenzo in campo grazie a Regione e al Comune Senigallia maestra io ho fatto i compiti ma un ladro me li ha portati via il quaderno era nell'auto della madre che è stata derubata mentre faceva yoga i compiti li ho fatti ma li hanno rubati si è dovuto giustificare così ieri mattina in classe un bambino di 10 anni che frequenta la quinta elementare a Senigallia lui i compiti li aveva fatti ma la sacchetta che conteneva appunto i quaderni era rimasta nel sedile dell'auto della madre che i ladri dopo aver rotto il finestrino hanno rubato e poi sempre da Senigallia i cani da guardia che i cani da guardia si azzannano serve la task force per dividerli un cucciolo di pastore tedesco è morto altri quattro altri hanno riportato profonde ferite anche la forestale intervenuta nella villa alla Castellaro i vicini di casa temendo la presenza di ladri hanno chiamato la polizia invece erano questi ladri e scusate questi cani che si azzannavano e a proposito di ladri invece i ladri in fuga con il testa coda la banda dell'Audi eccola qua è stata intercettata nella notte nel quartiere di Monte Granaro è stata inseguita dai carabinieri l'auto si è schiantata i malviventi sono riusciti a scappare il mezzo rubato ad Arezzo all'interno trovati sequestrati arnesi da scasso è un po' di giorni che anche su Whatsapp stavano girando queste informazioni queste notizie di quest'Audi di colore grigio che stava andando a compiere furti un po' nell'entroterra in particolare ad Apecchio un Audi 4 grigio chiara che appunto adesso ha finito la corsa si è schiantata e i malviventi sono fuggiti spinge a rubare invece la figlia di appena 10 anni è la storia che troverete sulla pagina del Corriere di Oggi di Pesaro l'ultimo colpo in Via Giolitti il padre distrae il negoziante la bimba trafuga i soldi queste sono le notizie del Corriere Adriatico velocemente andiamo adesso sul resto del Carlino questa invece è la notizia in primo piano che riguarda la coppia uccisa dal monossido di carbonio ad Urbino le indagini svelano retroscene inquietanti poteva essere una strage la causa infatti è la caldaia di un vicino che è stata spenta appena in tempo perché le esalazioni avevano già invaso le case di 8 studenti ed una famiglia ora veramente queste sono quelle cose che col senno del poi fanno venire fanno rabbrividire però è successo questo che il malfunzionamento non era a casa della coppia che purtroppo è rimasta uccisa ma in una casa vicina e quella della vicina di casa stava per fare una strage questa caldaia difettosa anche qui sul Carlino ovviamente c'è il richiamo in prima pagina sull'ospedale unico la sanità Fosso sei ore ne scontenta tanti Ricci critico Maseri è sollevato la scelta di Ceriscioli divide ora si dovrà partire con gli espropri e soprattutto mettere mani al portafoglio perché ricordiamo che quell'area non è pubblica bagna il gatto finita processo le chiedono 15.000 euro di danni una storia kafchiana però è stata assolta questa signora che ha bagnato il gatto poi andiamo nelle pagine interne andiamo a vederle subito la pagina di Fano eccola qua laureati al vallato coppiette a Sant'Orso ecco gli identikit della città quartiere per quartiere cioè i laureati la maggior parte delle laureati vivono al vallato le coppiette vivono a Sant'Orso è uno studio dell'Ateneo di Urbino che racconta praticamente chi siamo dall'analisi socio-economica lo studio calcola il BES il benessere eco-solidale ok e quindi è un articolo tutto da leggere se siete curiosi di sapere appunto come è suddivisa la nostra città post su Facebook siamo sulla Valle del Cesano del Carlino post su Facebook Londè è stato assolto il consigliere Baldelli aveva quel relato l'avversario politico per alcune critiche apparse sul web però per il giudice non c'è stata diffamazione la frase incriminata era forse non è bene scendere al loro stesso livello un po' pochino però migranti in gita a Fontevellana Pergola questa è l'iniziativa con tanto di fotografia la vedete qua sopra tutti questi messi insieme per questa foto ricordo e poi sotto invece bombe sotto il ponte dell'Acqua Santa arrivano gli artificieri ieri c'è stato il sopraluogo però abbiamo visto le immagini dal Corriere Adriatico è stato fatto brillare poi aeroporto invece chiuso il caso Ferri la società rinuncia all'azione legale Santorelli ex presidente di Fanon Fortuna chiede i danni l'amministrazione Belli vorrebbe la prelazione sul futuro bando dell'Enac l'attuale amministratore unico della Fanon Fortuna è Giuseppe Belli lo vedete nella fotografia pubblicata questa mattina poi il convegno oggi all'ex seminario di Fano sessualità e disabilità senza tabù e senza pregiudizi è un appuntamento che verrà affrontato è un argomento che verrà affrontato oggi pomeriggio alle 14.30 nei locali dell'ex seminario sotto la direzione scientifica di Fabrizio Quattrini psicoterapeuta sessuologo presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma ed in presenza di esperti del settore l'ultima pagina è questa la vediamo subito dallo scantinato alla start-up senza passare dal notaio un fanese anzi è fanese la prima società costituita in Camera di Commercio Matteo Brocch e Alan Mancini hanno fondato la Medlabs e tecnologia dicono loro su misura e qui c'è anche l'intervista poi sopra una comunicazione che può interessare anche a chi va in auto e deve passare da quelle parti stiamo parlando del ponte di Varano sul torrente Arzilla che collega Fenile e Carignano ieri è arrivato il comunicato stampa dell'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi che ha detto in sostanza c'è il maltempo purtroppo per colpa della pioggia slitta l'inaugurazione che era prevista per il 26 ottobre di questo ponte rimesso a nuovo è tutto grazie per aver seguito Occhio e Giornali l'informazione torna stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia buona giornata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti